Ma non mi dite che mi devo mettere in allarme, cioè Ginevra Lamborghini può essere che rientra il Grande Fratello? E allora amici miei, innanzitutto benvenuti in questo nuovo video, per chi non mi conoscesse, io sono Max. Parliamo del Grande Fratello perché le ultime settimane non sono state per niente facili per la sorella di Elettra Lamborghini che è stata accusata, come altri inquilini nella casa, non è che altri si sono salvati, di non aver dimostrato la dovuta empatia nei riguardi di Marco Bellavia, che fa rima co-empatia, però è una cosa brutta, nel senso che sappiamo Marco ha avuto problemi psicologici, quindi, insomma, sicuramente non è una cosa positiva. La scorsa settimana la concorrente è stata quindi squalificata dal gioco a causa delle parole pronunciate contro Marco. Eh, per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato, il Grande Fratello ti dice che sei ufficialmente squalificata. E queste erano state le parole di Alfonso Signorini per poter annunciare appunto la squalifica, chiamata così nel salotto di casa con i concorrenti tutti impietriti dalla notizia. Troppo gravi le parole pronunciate dalla giovane bolognese che, con il suo affermare che Marco Bellavia meritasse di essere bullizzato, ha praticamente oltrepassato il limite. E di questo ne abbiamo parlato tantissimo, nel senso c'era anche chi non era d'accordo su questo, ma tralasciamo. Ginevra intanto, quando era dentro, era entrata con molto entusiasmo, ma a causa delle sue parole ha dovuto abbandonare il gioco dopo soltanto due settimane. Il provvedimento preso da Alfonso Signorini, ma anche dagli autori del programma, è stato apprezzato dalla totalità del pubblico, come è stato anche apprezzato il televoto flash che ha visto uscire anche Giovanni Ciacci. Ma tornando a Ginevra Lamborghini, l'ex Vipona può in qualche modo rientrare nel programma? È questa la domanda che da giorni circola sul web. E mentre molti telespettatori hanno apprezzato il provvedimento preso contro la sorella di Elettra Lamborghini, appunto dicevo prima che molti hanno chiesto a gran voce il rientro in casa della concorrente. A questa domanda, però, ha risposto Alfonso Signorini. Carissimi ascoltatori, sicuramente Ginevra ha lasciato il segno nella casa del grande fratello Vip. Il suo meraviglioso carattere superante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini. Ma la squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come quel che sapete. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte, più volte ancora nel corso del programma chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella casa, beh, è scontato, per il momento non è previsto. Ma signori miei, quel per il momento ha scatenato i fan perché questo dà speranze. In queste parole hanno visto una piccola apertura di una piccola possibilità che ci potrebbe essere. Chi lo sa, piro 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 là, solo il tempo ce lo insegnerà. Quindi, per quanto mi riguarda, per questa news è tutto. Max vi ringrazia per l'attenzione e se volete, pollice in su, di supporto e ci sentiamo alla prossima.